buongiorno ragazzi allora mi sono fatto la doccia povegliano sulla 22 dopo dopo l'imbocco di verona sud allora avete visto la doccia si trova all'interno dei bagni c'è anche il water bella grande acqua calda era pulita perché c'era la signora interessante allora come detto da un mio iscritto anziché i voti do lati positivi e lati negativi il numero dei aspetti positivi o aspetti negativi dipende dal numero dalla doccia allora in questo caso aspetto positivo che era era pulita che era il box doccia era grande e che aveva lo sportellino indietro quindi l'acqua non usciva e non aveva contatto con la tendine quelle sporche tendine aspetti negativi è che la doccia si trova all'interno dei bagni quindi molte volte è occupata da persone e quindi da altre a fare i loro bisogni e tu non hai modo di poterti fare la doccia altro aspetto negativo è che mancava proprio la pistola per la doccia avete visto a vederci